S'è tenuta ieri mattina presso Palazzo Sant'Agostino a Salerno la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di School Movie. All'evento hanno preso parte Antonia Grimaldi, vice direttore artistico di Giffon Experience, Don Agnello Manganiello, prete antica morra, Enza Ruggero, ideatrice e presidente dell'associazione culturale School Movie, Giuseppe Canfora, presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, capo della segreteria del presidente della regione Campania ed il senatore Vincenzo Carbone. Presenti anche tutti i sindaci dei comuni che hanno aderito al progetto, nonché i docenti, i dirigenti scolastici e gli alunni protagonisti della sesta edizione. La finalissima di School Movie si terrà il 19 luglio nella sala Alberto Sordi del Giffon Experience. I temi che cerchiamo di trattare con i cortometraggi sono temi sociali importanti, temi caldi della nostra società, ovvero la legalità a 360 gradi, bullismo, cyberbullismo, integrazione, immigrazione, le dipendenze dalle tecnologie e non. E poi c'è l'altra macroarea che è il territorio e le sue tipicità, proprio per valorizzare sia dal punto di vista paesaggistico ma anche come opportunità il nostro territorio. Tutto questo legati da un filo conduttore che quest'anno è la libertà. Libertà perché sappiamo quanto sia importante questo sentimento, anche questo traguardo da raggiungere. Perché la libertà a volte è scontata ma in realtà non lo è poi così tanto. Raggiungere la libertà, uno stato di essere e sentirsi uomini liberi è qualcosa che va costruito giorno dopo giorno.